... Solo per comunicare ed invitare a lei, Presidente, comunicare al Consiglio, se sarebbe il caso, e credo che ne sarebbe il caso, di invitare il Presidente della Fondazione Carnevale nella persona di Antonio Coniglio, nel relazionare lo stato attuale della cittadella del Carnevale anche perché c'è stato sui social una gran massa di confusione, ognuno scrive quello che vuole si permette di dire tutto quello che vuole dietro uno schermo e quindi onde evitare, sgombrare il campo di certe assurde supposizioni, sarebbe il caso anche perché questo Consiglio credo che deve conoscere lo stato attuale della situazione. Io personalmente la conosco un po' al 50%, ma sarebbe il caso di capire come si sta muovendo la Fondazione Carnevale in merito, anche perché il Carnevale sappiamo che è patrimonio di tutta la città, sappiamo che è un veicolo economico importante per la nostra città, e questo Consiglio ultimamente, come non mai, mi ricordo che è molto interessato alla questione Carnevale, perché si è convinti che se di turismo si parla il fulcro centrale è la cittadella del Carnevale. Grazie Presidente.